Approvato il collegato. Le novità. Consiglio sempre più trasparente. I diritti umani in video. Nella seduta del 15 dicembre il Consiglio regionale ha approvato il collegato alla manovra finanziaria 2015, esaminati e votati anche diversi documenti di indirizzo. In copertina. Il Consiglio regionale ha approvato il 15 dicembre a maggioranza il collegato alla finanziaria della regione. Il provvedimento, in 60 articoli, interviene su una pluralità di leggi regionali. Tra le novità più significative, la nascita dell'Agenzia Foreste e Territorio, la proroga del piano casa al 31 dicembre 2016 e la delega all'Agenzia Piemonte Lavoro dei Centri per l'Impiego, la cui competenza torna in capo alla regione. Approvati anche 5 atti di indirizzo, rispettivamente sulla riorganizzazione di Arpea, sul piano delle attività estrattive, sugli appalti, sul buono scuola e sul bilancio degli enti locali. Sono state 41.000 le visualizzazioni della sezione del sito del Consiglio regionale, dedicata alla trasparenza negli ultimi sei mesi. I dati sono stati presentati nel corso della giornata della trasparenza, organizzata al Centro Incontri della Regione Piemonte, durante la quale sono stati illustrati il piano 2014-2016 e il suo aggiornamento 2015-2017. In occasione della giornata internazionale del 10 dicembre, il Comitato Diritti Umani ha promosso la realizzazione del docufilm Todocambia del regista Alessandro Abataneo, un cortometraggio di 8 minuti che indaga sulla percezione dei diritti umani nella società civile. Alessandro Abataneo